Obiettivo del governo sul PNRR è finanziare tutto quello che è stato messo a progetto. Ovviamente dipende da altri ministri, però mi faccio portavoce dei sindaci e delle province di Lucca e Massacarrara perché tutti i progetti finanziati vadano avanti. Lo ha detto il vice premier Matteo Salvini, che a Forte dei Marmi ha incontrato i sindaci della Versilia. Sulle infrastrutture, delle quali ha la delega, Salvini è stato ancora più puntuale nelle rassicurazioni. Ci sono già progetti su cui stiamo lavorando in Toscana, come la tangenziale di Lucca, ma, ha aggiunto, c'è il tema del rapporto con ANAS che voglio migliori. Ha ricordato il passante dell'alta velocità di Firenze, ma ha assicurato che porterà al tavolo con ferrovie le istanze dei sindaci per avvicinare più velocemente la costa al resto della Toscana. In realtà, nella documentazione del Ministero è già presente lo studio di fattibilità del collegamento ferroviario veloce tra Pisa e Firenze, il cui progetto era stato lanciato nella scorsa legislatura ed è poi rimasto al palo. In un incontro con gli industriali pisani lo scorso aprile, Salvini aveva rassicurato sul fatto che il progetto sarebbe stato ripreso in mano dopo le elezioni amministrative. Con i sindaci versilesi il ministro ha parlato anche dell'ipotesi di un raddoppio ferroviario via Reggio Lucca. C'è il sindaco di Stazzema, ha aggiunto, che mi ha detto che aspettano due chilometri di strada da 50 anni per unire delle frazioni. Vediamo se noi al governo in quattro anni riusciremo a recuperare i 50 anni passati. Un aiuto fondamentale nella realizzazione dei progetti, Salvini lo individua nelle province. Mi chiedono anche di reintrodurre le province perché le province, io da segretario della Lega ne sono straconvinto, servono per stimare le scuole e le strade. Questa è una battaglia che come Lega spero di portare al successo.